Sì, perché è stata una sosta anomala e lunga, quindi abbiamo, almeno noi, caricato molto per arrivare poi a maggio, quando finisce il giorno di maggio. Ristoranti mani in pasta, aperti a pranzo e a cena, sette giorni su sette. A Saione e Nuovo Punto, Via Guido Monaco, numero verde 800 909 206. Andrea, finalmente ci si ritrova dopo un po' di tempo e siamo alla vigilia di una gara importante. Eh sì, dopo quasi un mese e mezzo si ritorna a fare calcio, che è la cosa più bella e importante, insomma, per chi come noi siamo nel mondo del pallone. La Coppa della Coppa è un buon segnale, perché si riparte. Sì, indipendentemente dall'impegno che sia Coppa o Campionato, è bello ritornare nel campo tutti insieme. Nella nostra squadra abbiamo vissuto un periodo un po' difficile, perché abbiamo avuto tanti positivi. Per fortuna la situazione ora è normalizzata e c'è voglia di rivivere i 90 minuti della partita che mancano tanto. E in questi giorni, dove sicuramente non sono stati facili, come avete cercato di gestire il gruppo squadra e i carichi di lavoro? Allora, a fine dicembre, diciamo, dopo la sosta natalizia, con i tanti casi abbiamo fatto allenamenti singoli e abbiamo dato un programma che hanno rispettato. E abbiamo ricominciato l'attività dopo l'epifania e piano piano con le negativizzazioni e il renter to play. Da questa settimana siamo finalmente al completo. Questo periodo, questo mese di sosta, probabilmente vi ha costretto a ripartire da capo con la preparazione? Diciamo di sì, perché è stata una sosta anomala e lunga. Quindi abbiamo, almeno noi, caricato molto per arrivare poi a maggio, quando finirà il campionato. E devo dire che la squadra la trovo motivata e in forma. Anche perché, insomma, qui c'è voglia, come dire, di emergere in maniera definitiva. È un bel ambiente, è una bella piazza. Sì, sicuramente c'è un po' di rammarico del perigione d'andata. Abbiamo avuto tante defezioni che non devono essere un alibi, però ci hanno condizionato. E finalmente rivedere la rosa al completo è una soddisfazione. È un punto di domanda per vedere chi siamo veramente, insomma. Tu qui sei un po' tuttofare, insomma, dai la mano sia per quanto riguarda la preparazione, ma anche in qualità di esse. In questo periodo che c'è stata la riapertura di mercato, avete pensato di modificare qualcosa? Abbiamo fatto due innesti. Abbiamo preso Marraghini dal Bibiana, che è un difensore di esperienza e di assoluto valore. Si è riaggregato la rosa a Gennaioli, che aveva avuto degli impegni di studio, che però in questo momento non ci sono più. E si è riaggregato la rosa, quindi contiamo anche su di loro, insomma. Anche se con il grande lavoro che state svolgendo, insomma, Vittorio Aprile può attingere anche dalla Juniors. Insomma, nei momenti di difficoltà la fate, quindi... Sì, sì, sì. La Juniors è un bacino importante. Quest'anno è stato fondamentale, perché abbiamo avuto dei momenti di grossa difficoltà e avere la Juniors è stato importante e abbiamo avuto anche la possibilità di far esordire dei ragazzi e soprattutto di valorizzare alcuni ragazzi che sono della Juniors e questo è una cosa che per noi è importante. Adesso c'è questa Sanzovino in Coppa, che voi avete avuto modo già di affrontare in campionato. Qual è la tua idea? La mia idea è che la Sanzovino sia la squadra più forte di questo campionato con la Fonte Belverde e sia una squadra sicuramente di categoria superiore. È una sfida che si prepara da sola, perché queste partite qui gli stimoli si trovano da soli, insomma. Io credo che sia un piacere affrontare una squadra di questa levatura, di andare a calcare un campo che attualmente è anche bellissimo. Quindi secondo me è una domenica di festa, perché si ritorna a fare calcio, si incontra una squadra molto forte e chissà il calcio poi qualche sorpresa ce la riserva ogni tanto. Anche perché vi deve aiutare per la ripresa del campionato, anche se subito dopo avrete dovuto osservare il turno di riposo. Sì, noi riprendiamo effettivamente il 20 e abbiamo organizzato un allenamento congiunto con il Montagnano la settimana successiva per fare più minuti possibili per ritrovare il più smart possibile, perché da quello che ho visto anche negli allenamenti quello che manca è la partita, insomma, e solo giocando si può recuperare la forma fisica ottimale. Grazie. Grazie a te.